Mi sembrava un po' fuori dal gioco, mi sembrava un po'... In un momento là poteva entrare anche Van Basten, sta tranquillo, faceva fatica, perché eravamo schiacciati. Sicuramente abbiamo avuto, se non ricordo male, ma ricordo bene, abbiamo avuto 3-4 ripartenze per... Una volta ha sbagliato Jack, una volta ha sbagliato Akan. Non ho visto, anzi, ho visto un giocatore che rincorreva gli avversari, un giocatore che ci ha messo voglia, passione. Ragazzo giovane, dopo mettetevi d'accordo, quando non gioca mi dite perché non gioca. Adesso, oggi l'ho fatto entrare, andate a trovare il pelo nell'uovo che l'avete visto svogliato. Lasciatelo stare, sono molto contento, sono contento e deve continuare il percorso che... Perché è un ragazzo giovane, gioca in un campionato difficile, ma ha grandissime qualità e penso, e sono sicuro, che li tirerà fuori.